il nuovo cd di ciro ricci oggi 10 nuovi brani come e tutti i sentimenti soffi non ti dico non è più tempo queste ed altre canzoni straordinariamente belle le troverete in oggi il nuovo lavoro discografico di ciro ricci il nuovo cd di ciro ricci è distribuito dalla ers in tutti i negozi specializzati disponibile anche online su www.ersitalia.com e presso il proprio punto vendita in grosso e dettaglio ad afragona via torino 34 infoline 081 851 0213 grazie